buongiorno ma che stai fai questa la puoi fare ma smette ma che stai fai guarda che lavora ma non puoi mangiare sempre così ma io non la mangio tutti i giorni sarà due mesi che la mangio si ma te trema il braccio il bomboccio il bomboccio bomboccio bello bomboccio no no ho preso la multa sicuro ho preso ma che hai fatto sono passato col rosso no eccolo è il rosso del ragazzi non passate mai col rosso perché sennò mi fanno la multa se andiamo a fare le decorazioni fuori eh mette il giacchetto mette il giacchetto questa va bene mette il giacchetto oh si ma tocca vedere se ci vuole con la cosa tonna allora dammene tutte e due dammene tanto di qui stiamo a fare la pasta ancora questa è queste le luci oh cominciare perché me ne vuoi è in questo o no va via eh ti sto dicendo da che servono per metterle sul culo bello il culo con le luci oh va bene queste mannaggia eh va via fermo fermo oh fermete eh eh tocca a mettere le luci eh beh tocca a mettere le luci eh beh tocca a mettere le luci ma come si può fare ma come si può fare non ci dirà no no si la trovo io la soluzione eh ma questo ha fatto un accrocco ha fatto un accrocco beh eh para para ma questo è un accrocco no fermati ma io sono venuto a dare il buon Natalino e lui niente e ora facciamo l'accrocchetto guardate qua fili su fili quando arriverà la mia mamma ci si incula sicuro questo è l'accrocco più grosso penso degli ultimi anni questo è l'accrocco più grosso degli ultimi cento anni non dai cazzotti non dai cazzotti io sono venuto a dare il buon Natalino buon Natalino sul peluche non lo lasciava no sta a mettere il coso non lascia che dopo vi cade guarda che bel palo che ha preso si mettono a dare il calcio buon Natalino sul peluche non vede Adelio ferma che non vede no 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 le misacce no adesso si ora si che è la casa del babbo Natale questo è proprio un bell'accrocchio ma è arrivata tu mamma accrocchio pazzesco ma questo non va bene levelo la sto fermo scemo ma dai ma non va bene guarda quanto è bello questo che accrocco ma che bello ma stai tu stai moca il vento qua l'accendo che questo 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 ma è un accrocco certo questo che vuoi tu ma fai l'illuminio di cazzo e poi vanno a tornare a Rossella vai 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 metti il braccio intorno a torna la vita torna a babbo Natale così metti il braccio eh così e di che bello l'accrocco vai meglio 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 che bello l'accrocco eh ho sentito ma la colpa è la sua hai sentito no tu che hai fatto l'accrocco solamente c'è l'accrocco quello che lì succede che non la chiamai pompiere perché va a fuoco tutto tu hai preso le scuole ma stanno ma stanno ma stanno nemmo fatto che accrocco è stato stanno spettacolare bello? è bello? ti piace a te? questo? tommo sì bello? sì rappresenta il Natale? sì sì è natalino è natalino non Natale perché lo devo togliere? perché è pericoloso e perché fa schifo ma che fa schifo è bellissimo tu non credi negli accrocchi di Natale te le dico per favore eh? oh no 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 vai qui eh ma va a casa tua a fare gli accrocchi è bello l'accrocco c'è una cosa che l'ha fatto eh? ci l'hanno fatto cose eh guardate che bello che geometrie cioè Babbo Natale è tipo un curva così che pende il Babbo Drillo che ti saluta tutta una bella luce un po' così a onda paletti della scopa rigorosamente della scopa arrugginiti coccetta al top soprattutto accrocco vai nonno Faustino guardate che lavoro dormimo? eh? ma va sul letto no? no perché? stai dormi? stai dormi? oh o no? stai dormi? sì oh va là la mia da te arriva la mia ma questa è legge eccolo che tutte fake news proprio che l'ho però che l'ho che l'ho